È iniziata ieri la proposta di volontariato chiamata 72 ore senza compromessi, promossa dalla Caritas Diocesana. I dieci giovani volontari che hanno aderito all'iniziativa sono ospitati presso l'oratorio di Arco grazie all'associazione Noi Oratorio e lavoreranno in stretta collaborazione con la Caritas del Decanato, della SAT e del Gruppo Alpini della Città. Oggi è la prima delle due giornate di lavoro al Bosco Caproni dove i ragazzi hanno svolto lavori di manutenzione e pulizia che serviranno a rendere quel luogo maggiormente fruibile, soprattutto dal punto di vista didattico. Insieme a loro, oltre ai volontari delle associazioni promotrici, ci sono anche due profughi richiedenti asilo. Una bella occasione dunque per stringere rapporti di amicizia e di integrazione. Nella mattinata di domenica i ragazzi, provenienti tutti dalla Valla Garina, faranno un bilancio della loro esperienza con alcuni rappresentanti della Giunta Comunale di Arco. Nel pomeriggio si recreranno poi a Trento per fare festa con gli altri 200 giovani aderenti a livello provinciale, alle 72 ore senza compromessi. Allora, qua si tratta delle 72 ore senza compromessi, è una proposta della Caritas Diocesana di Trento che impegna i ragazzi per tre giornate di volontariato. Senza compromessi vuol dire che loro non sanno cosa andranno a fare. Dieci ragazzi sono arrivati ad Arco, sono ospiti dell'oratorio di Arco, mangiano e dormono lì e sono impegnati nella pulizia, nei lavori di manutenzione del Bosco Caproni e delle strutture che sono nel Bosco Caproni. È una bella esperienza e soprattutto noi non abbiamo esperienza, siamo venuti qua e appunto 72 ore senza compromessi, senza avere niente in mente, non sai cosa vai a fare e te lo dicono lì al momento, però è una bella esperienza e lo consiglio a tutti. Ma è una bellissima esperienza che ci fa crescere molto anche dal punto di vista per la collaborazione con gli altri compagni. Molto istruttiva come esperienza anche perché sono cose che magari molte persone non hanno mai fatto. E quindi è un lavoro che ha una valenza soprattutto di piena valorizzazione didattica nel senso che noi creiamo manutenzione, strutture, protezioni perché poi i bambini o i ragazzi che vengono a frequentare, andare a scuola fuori al Bosco Caproni siano i più tutelati possibile. È bella e costruttiva, cioè serve per stare più in compagnia, conoscere nuova gente e per aiutare anche gli altri insieme. L'idea nostra è questa, che poi questi ragazzi nella loro vita comune, nei loro paesi perché ad esempio i ragazzi che sono qui provengono dalla Vallagarina, da Villallagarina, da Pumarolo, da Cagliano, da Castellano. Poi siano buon tramite per la frequentazione del Bosco Caproni ma anche buon tramite per altri amici da portare in luoghi dove effettuare interventi di volontariato. Molto interessante perché mi sembrava molto bello dare una mano agli altri comunque insieme ad amici e a conoscere gente che facendo nuove conoscenze, portandosi a casa un amico in più magari. Bella, molto bella, è interessante imparare anche nuovi mistieri da diversi e conoscere gente nuova anche e soprattutto. Questa è la seconda edizione, siamo già stati al Bosco Caproni nel 2014 il lavoro importante che abbiamo fatto è stato quello della pulizia di questo prato che poi serve come area di gioco e di raduno di grandi quantità e numeri di bambini e poi abbiamo anche proseguito nella pulizia del Bosco e adesso stiamo continuando perché i ragazzi abbiano la sensazione, la netta sensazione di quello che era il Bosco prima dei rimboschimenti operati da Caproni e prima che il Bosco crescesse spontaneo quindi era una grande pietraia frequentata dalle Capre e da povera gente adesso è diventato un Bosco. Molto interessante perché ti metti in gioco completamente e provi com'è il volontariato è veramente bello lavorare con gli altri e provare a fare qualcosa per la comunità, per tutti. Abbiamo pensato di coinvolgere come già avevamo fatto due anni fa i ragazzi poi abbiamo i volontari della SAT, abbiamo anche gli alpini domani c'è un gruppo di residenti della Moleta che sono venuti a aiutarci di concentrare un po' il lavoro sulla casa quindi stiamo tinteggiando, dando un po' di bianco stiamo sistemando le staccionate esterne e poi grazie alla collaborazione anche di Bruno Perini stiamo ripristinando un muretto a secco nella strada che sale praticamente dal policromuro. questi sono poi i lavori che si stanno facendo in questi due giorni contestualmente una piccola parte anche di intervento sta dedicata alle trince dove c'è da ripristinare un muretto a secco che è franato e nell'area geologica per riscoprire un altro pezzettino di questa roccia particolare che richiama il passaggio dei ghiacciai perché come ormai si sa, credo, il Bosco Caproni è usato frequentemente dal punto di vista didattico con le scuole e noi l'abbiamo un po' definito un museo all'aria aperta in cui ci sono delle sezioni che si visitano appunto con gli esperti tra cui appunto Romano, i forestali, Bruno ed altri insomma che si impegnano in questa attività per spiegare ai ragazzi un po' qual è la concentrazione di attività insomma così anche culturali se vogliamo insomma storiche, tradizionali che questo bosco comprende quindi ecco la casa in effetti diventerà sta diventando un po' il punto di riferimento anche nel caso insomma in cui quando si viene su con le classi il tempo non fosse dei migliori e poi tutto intorno i prati appunto servono sia per vedere un po' la natura quella che era un po' anche la lavorazione che è stata fatta con la costruzione di muretti a secco le coltivazioni che qui c'erano come agricoltura ovviamente di sussistenza poi le trincee, le cave di Olite dove appunto c'è stata una grande opera di escavazione e poi tutto invece l'aspetto forestale legato a queste specie mediterranee che un po' contraddistinguono un po' tutta la nostra area del nostro territorio arcense Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie.